Il virus e il vino, un connubio imperfetto ai tempi del Covid-19, un settore che ha colpito prevalentemente il sannio e le sue produzioni vitivinicola, un sannio che possiede circa il 50% dei vigneti della Campania per un totale di circa 10.000 ettari, quasi 8.000 viticoltori e 100 aziende imbottigliatrici. L'emergenza sanitaria ha bloccato e messo in ginocchio un intero territorio. Il 2020 non sarà una bella annata, mesi che hanno visto lo stop delle attività produttive del vino dovuti ai decreti per contenere il contagio e che si riflettono sull'economia e sui produttori locali. Un calo ancora non stimato nel sannio, ma un danno che supera i 20 milioni di euro. Ne abbiamo parlato con il presidente del sannio Consorzio Tutela Vini, Liberato Rillo, che ha fatto il punto della situazione. La realtà vitivinicola sanita è fatta comunque di aziende medio piccole, quindi che hanno come clienti principali i ristoranti e le enoteche, che sono due categorie commerciali che attualmente sono ancora chiuse, forse apriranno il primo giugno, forse d'obbligo, ma comunque bisogna guardare pure alle condizioni con le quali dovranno aprire. Per cui penso che il lavoro sarà molto limitato e comunque tutto l'anno, non per essere sostenitore di tragedie, ma penso che tutto l'anno sarà un anno molto molto negativo per il nostro settore. Non solo produzione, il sannio è ricco di eventi dedicate al vino, un circuito economico che gira attorno ai paesi produttori, che quest'anno dovranno rinunciare e causa il virus. Si pensa a vini estate di Torrecuso, la festa dell'uva di Solopache e Castelvenere. Sono sicuro che questo tipo di manifestazione per quest'anno non sarà consentito, per cui ci sarà un ulteriore danno sia di immagine sia economico. Insomma, quantificare il danno totale, perché non riguarda solo la mancata vendita, bisogna guardare a 360 gradi ed è ancora presto, ma penso che a fine anno, o meglio, quando tutto questo incubo, perché solo così possiamo definirlo, sarà finito, il danno sarà veramente enorme. Intanto dalla Col di Retti la notizia di un boom percorso online di degustazione di vini del sannio, un'iniziativa dedicata a chiunque voglia imparare le basi della tecnica di degustazione del vino, Spiraio di Luce, nel tunnel.